Cosa è successo? Lui è scappato. Scappato? State attenti, lui è il nemico. Io obbedirò al partito. Lasciatelo! Dal maestro Shanghimo. In nome del partito ti assicuro che quest'uomo accanto a me è tuo marito. Che cosa sono? Lettere. In prima visione assoluta. Lettere di uno sconosciuto. Martedì 21.15 Rai 5 Anche in lingua originale.